5.000 mi piace per questo episodio ma che roba è? Raga sono commosso dalle clip che stiamo vedendo oggi mamma mia Continua il tono, benissimo Ma bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi raga siamo tornati con la reazione alle vostre clip su Brawl Stars Come sempre mi raccomando continuate a mandarmi le vostre clip alla mail A raxoclip.gmail.com E detto questo, andiamo Partiamo quindi da sopravvivenza Abbiamo, si oddio tutto troppo veloce Però allora, 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 allora Io già ho capito qual è il concetto Però non ho capito Calma Praticamente 8 bit contro Bull Ma lì dice bot 5 ma era veramente un bot Oppure Boh da come se la gioco, non lo so Beh, comunque bot non bot ragazzi Bottazza di culo è incredibile Eccoti qua Andiamo avanti con GX Red che fa questo doppio Oddio Triplo a rimbalzo Raga questo è uno spot strausato Mille mila clip qua Però Questo è un triplo rimbalzo Facendo il rimbalzo dalla sponda fuori Mai usata quella sponda mai vista Più con ticli davanti Prossimo clip Oddio che è successo qua 1% 1% Attenzione Hanno vinto con 60 di vita Che bottazza di culo è il ragazzo Prossima clip abbiamo adesso In realtà non lo so Ah forse Diego che fa un salvataggio Ah Cosa Cosa Sad man ragazzi ma Cosa E' dentro Com'è possibile sta cosa Ok In che senso Ma andiamo avanti ora con Raul Attenzione vado avanti alla porta E che ci combini Ah vabbè rimbalzino molto classico Però con i due nemici lì davanti Dai diciamo che ci sta Non è male Andiamo avanti attenzione con Maku Che ci combini Maku Beh io ragazzi sono commosso Questo si è un bel ribalzino tattico tattico E' triplo rimbalzo Ci muore anche Beh questo ragazzo perché Ma me ne manda anche un altro E' carino Ci sta anche questa mossa Mi è piaciuta Ancora lui sempre con Mortis Ancora triplo Ma sei il king dei terribili rimbalzi Ancora Ma raga Ma fategli fare un quadruplo rimbalzo A sto punto Non lo so GG Maku Ma andiamo avanti ora con la prossima clip Ah così subito Ma Ma Con tutta sta velocità Ma credo che la clip sia velocizzata Ma fammi un attimo capire Allora Michael Che cassa era questa La cassa Era una cassa enorme Tra l'altro è stato talmente veloce Che neanche si vede in basso a sinistra Della cassa Bellissima Questa qua comunque è la cassa enorme Che si è fatto Durante la championship Di qualche giorno fa Quindi lui ha preso appunto La sua cassettina E ha trovato le ombre Ed è il primo leggendario Ma andiamo avanti Ora con la prossima clip Non si vede nulla Però Ok vediamo che c'è un il primo Con nove power up Contro questi due Che sono un po' bustati Ma vince comunque Andiamo avanti adesso Con Mimi Attenzione Si passa la palla in avanti E come è fatta Ma com'è Fammi un attimo capire No Cioè A parte che qualcuno ha preso la palla Ma non si capisce nulla Ma che è successo là in mezzo Vabbè comunque Prende la palla lui A quanto pare Riesce a tirare anche Ok Va bene Andiamo avanti Ora con Zeus Sembra il foot Sta usando Barry Prende la palla Prevedo rimbalzi Ingredibili Sì brother Ce l'hai tuoi fatto E preso il nostro Ma andiamo avanti Ora con Stoken Attenzione Si trova da solo Contro questi due Tra l'altro La nita al succhetto Ora non più Eh bro Qua uno normale Direbbe Ho perso Ma lui Se va mandato al clip Vuol dire che non l'ha persa Infatti tira una botta No Ma tranquilla Ragazzi Gadget E star power Non sono betwe No no Assolutamente raga Non lo sono Se non le avesse avuto Chiaramente sta kill Non l'avrebbe fatta No 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 Che sia mai Ma scherziamo Cioè guarda C'è la torretta Che li ha laserati Ed è normale Che poi io troppo Senza gadget E star power Se tutti quelli Che mi trovo contro Ce li hanno No Ma andiamo avanti Va bene così Adesso abbiamo Pompo Abbiamo pompo Che fa Ma che cune Ma non ha senso Ha fatto un rimbalzo In slow motion Non l'hanno presa Ma veramente raga Ma è una parola No GG pompo Gran bel gol Però Oh mio dio Andiamo avanti Ora con il mitico Scudello Attenzione Che fa questo Triplo rimbalzo Hai capito Il nostro Scudellone Cioè si fa Un doppio rimbalzo Con la palla Che passa in mezzo A tutti Bellissimo Andiamo avanti Ora con Leo King Allora qua La questione Potrebbe essere Un po' scomoda Però Cosa accadrà mai Rosa e Bull Con 7 power up Lui ne ha 6 Ma il suo compagno a 0 Li lasera Cioè lo lasera Dopodiché credo che Laseri anche la rosa Forse no Eh raga Situazione un po' Un po' critica E rimane pure da solo Ha perso Ma invece no Non ha perso Cioè Di sta laser Ma ora Andiamo avanti Con il vero Consolino Oh mio dio Con il primo Vabbè Quei rimbalzini Rimbalzini in arrivo Sì brother Lo aspetto Fammi vedere Ma raga Un triplo rimbalzo Non me l'aspettavo Qua pensavo Ne facesse uno Invece Invece Ma raga Ma che 5000 Mi piace Per questo episodio Ma che roba è Raga Sono commosso Dalle clip Che stiamo vedendo oggi Mamma mia Ma ora andiamo avanti Perché qua Cos'è che succede adesso Abbiamo Non lo so Abbiamo forse Minecraft Is Le Che No Non è vero Ah ben chiara Ben chiara ragazzi Ben chiara Attenzione Chiara Fai fuori Sto mortis Forse abbiamo Lori Invece Ho detto tutti Alla fine Era Lori Che fa un doppio rimbalzo Molto carino Raga Molto carino Sì rispetto alle clip Che abbiamo visto oggi Questa è quasi Una cacatina Però Bella clip Ma ora andiamo avanti Con Ggrrr Murax Che si fa Una bella doppia Ok Mi piassa Mi piassa Dopodichè è finita qua No non è finita qua Lagga un po' la clip Però Cos'è che mi combini Brother Mi vuoi fare Altra doppia Ma Ma sei Ma sei Un macinatore Di kill Ancora Ah no Ha finito Ok Beh raga Mica male Con tre colpi Praticamente Letteralmente Tre colpi Si è fatto fuori Due squadre Tre colpi Quattro brawler Va bene Qua c'è il terzo Flak Easy Bellissimo Andiamo avanti Ora con Godniko Con Pocho Panino ragazzi Un bel panino per loro Ecco rimane da solo E riesce E riesce ragazzi Vuoi dirmi che riesci? Ma come Riesce ragazzi Terzo Io No brother Ma stai scherzando? Spone anche l'alleato A questo punto Gran clip ragazzi Cioè è uscito da una situazione Quasi impossibile Quindi GG Tanta roba Ma ora andiamo avanti raga Questo ragazzi Mi ha mandato un video Bello lungo E credo che Aspetta Fammi vedere se c'è già la reaction Ok Ok C'è anche il suo audio raga Allora praticamente Da quel che ho potuto constatare Ha 31 box piccole E la mia cacassa Del cammino dei trofei Ha 5000 coppe lui E trova 6 skip Ok Non so chi trova ragazzi La sto guardando con voi Per la prima volta Ho ipotizzato Che ci potesse essere la reaction E infatti c'è Ma vediamo Ok Uno skip Raga avete sentito? Aspetta Raga Ha preso un po' d'aria raga E poi Sembrava volesse far l'urro della vita Ma no Si è trattenuto ragazzi E no Tranquillo Ok Ma trova anche altro Se mi ha mandato tutto il video Forse Ecco Gadget Cos'è la quarta La quinta cassa Vabbè No raga Mi giro Voglio vederla Sa faccia No raga Ma non ha senso Sta cosa A parte che però Scusami se te lo dico Però 5000 coppe Hai trovato due mitici Così Ma vabbè Ok Però Qua stesso discorso di prima E poi Fa un bel respiro Ma poi E poi subito scrive Ah non so chi No raga Voglio vederlo in faccia Mi giuro Non ha trovato nient'altro Comunque Cioè a parte che Nel senso Due bruller mitici Più il gadget Così Mi sembra anche troppo Come dire Ma andiamo avanti Ora con la prossima clip Perché abbiamo Abbiamo Noob candles Che ci fa questo Triplo rimbalzino È un triplo vero Oddio non ho capito Se è rimbalzato sotto Sì mi sembra di sì Vabbè comunque Doppio triplo Ci sta Buono GG Prossima clip E tozza Abbiamo I nostri due amici Ma che cacchio I nostri due amici Che sono Morti E quel bo Rag No ragazzi No Che fei l'ha fatto Quel bo E hanno vinto così No vabbè Qualcos'è che è successo Praticamente Volevano arrivare a seconda Hanno lasciato che si fai Tassero con loro Ok Poi l'hanno detto Ah beh Ormai abbiamo perso Ci lanciamo E via Ma non ci voglio credere No ma non ci voglio credere Bellissimo raga Andiamo avanti con Luke Che fa i macelli Bro Eh ma le sta devastando Ma che è Bellissimo Ma brother Che figata Ma riguardiamocelo raga Ha laserato tutti Stupendo Da solo Cioè li ha laserati Bellissimo Grande Luke Andiamo avanti Andiamo avanti ora Con Gabrix Che ci porti Gabrix Sei uno spike Hai pure il succhettino Ma vediamo 1v1 Che succederà mai Qua la questione Potrebbe iniziare A diventare complicata Però Qualche cosa succede 50 di vita Non muore Ma E quindi raga Per questo super episodio Direi che possa essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando un bel like Iscrizione Campanellina Ovviamente Continuate a mandarmi Le vostre clip Alla mail Raxorclip Gmail.com Noi come sempre Ci mettiamo alla prossima Con un nuovo video Bella raga